Nuovamente assieme gentili telespedatori di Prima Free, l'edizione di Padova e di Rovigo del nostro telegiornale. Apriamo, tornando a parlare del referendum, prossimo referendum sull'autonomia della nostra regione. Ebbene, sul referendum è tornato a parlare il governatore Zaia che ha ribadito e ha esortato i Veneti ad andare a votare fin dal mattino, di non aspettare gli ultimi momenti. Si cerca di spingere ulteriormente verso questa importante consultazione per quanto riguarda i Veneti. Ma sentiamo le parole del governatore Zaia nel servizio di apertura del telegiornale. Alle 7 lei aprirà il seggio? No, vado lì un quarto d'ora, prima me lo lasci fare. Alle 7 sarò lì e voglio votare perché è giusto dare un segnale. ... su questo referendum del mancato election day? Ma in Cida è semplicemente per i costi. Noi le abbiamo chiesto tre volte nell'ultimo anno di poter celebrare il nostro referendum assieme a consultazioni elettorali nazionali. Avremmo risparmiato i 14 milioni di euro. Ci è stato sempre detto di no, per cui prendiamo un atto, ma noi il referendum lo facciamo. Sto già a votare il Presidente il 22 mattiniero? Ma sì, sarò presente come ho annunciato. Cercherò di andare un quarto d'ora prima dell'apertura del mio seggio e anche perché voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato e che stanno rafferendo in questa maniera e anche dare un segnale. Insomma, i seggi si aprono dalle 7. Invito anche tutti ad andare il mattino, se si può, presto, chi lo può fare, durante la mattinata e non aspettare le ultime ore che magari si trova in tasamento di seggi, magari verso le 23, le 10, le 10 di sera, le 10 e mezzo. Andiamoci al mattino. Parliamo di cronaca, andiamo a Padova e parliamo di mazzette per quanto riguarda i servizi funeberi. Proprio così rischia di costare cara la cresta sul caro estinto a spese dell'azienda ospedaliera. La Procura ha presentato infatti il conto ai numerosi protagonisti di una cosiddetta tangentopoli dei morti. In 44 hanno ricevuto dalla PM Maria Darpa l'avviso per concorso in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. falso ideologico e truffa ai danni del ospedale. Sono queste le accuse contestate a vero titolo a 16 operatori sociosanitari addetti all'obitorio di Via Cornaro, tutti dipendenti dell'azienda ospedaliera e a 28 titolari di ben 15 imprese di onoranze funeberi tra città e provincia. Tra il 2014 e il 2015 il sistema corruttivo è andato in scena in almeno 40 occasioni. Tante saranno le salme oggetto di false autosigertificazioni di conformità, stando a quanto accertato dalla Polizia Giudiziaria della Procura. Andiamo in provincia di Rovigo per parlare invece di una battuta di pesca che diventa davvero un incubo, un salvataggio che è stato reso possibile grazie al perfetto coordinamento del Guardia Costiera e della Guardia di Finanza e nel quale, a testimoniare la solidarietà che esiste in mare tra i naviganti, ha preso parte anche una imbarcazione civile, una mercantile pronto da correre non appena è stata diramata la nota di soccorso. Al centro di tutto tre anziani che erano usciti dal porto di Albarella per una battuta di pesca. A causa poi di una avaria si sono ritrovati bloccati al freddo, al buio e in mezzo alla nebbia, tra l'altro senza nessun riferimento, certo, sulla loro posizione. E' stata lanciata la richiesta di SOS gestita dalla Capitaneria di Porto, sul posto sono arrivati quindi il mercantile e la vedetta della Guardia di Finanza. L'imbarcazione da di Porto dei tre è stata trovata da alcune miglia a largo di Porto Caleri, messa in sicurezza e guidata sino al porto di Chioggia. Ora parliamo invece di qualcosa di nuovo per quanto riguarda la provincia di Padova, soprattutto per quanto riguarda il comune di Limena, dove non si può più fumare proprio nei parchi pubblici attrezzati per i bambini. E' una ordinanza ad hoc che è stata firmata dallo stesso sindaco Giuseppe Costa, infatti che l'amministrazione comunale vuole dare un segnale chiaro per tutelare i bambini dal fumo passivo. E non si potrà fare finta di ignorare l'ordinanza che ha anche fissato sanzioni che vanno dai 25 ai 250 euro. In questi giorni sono stati già posizionati nei parchi pubblici attrezzati con giochi e giostrine e cartelli ben visibili che avvertono quindi di questo divieto e gli agenti della polizia locale vigileranno per farlo rispettare. E così i parchi con le giostrine del comune sono off limits per chi vuole sedersi su una delle panchine e accendersi una sigaretta. Parliamo invece di una casting, un casting per la fortunata trasmissione televisiva Mezzogiorno in Famiglia che va in onda appunto nel weekend su Rai 2. Ebbene, il casting viene fatto anche a Badia Polesine per due puntate, per due appunto eventi. C'è stata una grande affluenza per questo casting. Sentiamo allora come è andata. Carica dei badiesi per Mezzogiorno in Famiglia. Domenica mattina con i casting al teatro Eugenio Balzan è partito il conto alla rovescia in vista dell'ospitata TV1 al programma di Rai 2. In cabina di regia si è messa la proloco guidata dal presidente Giuseppe Romani che ha accolto i candidati al teatro di Piazza Vittorio Emanuele II. Nel gazebo allestito dai volontari all'entrata del teatro è stato possibile iscriversi mentre sul palco del sociale ogni candidato ha avuto circa un minuto per presentare la propria candidatura allo staff dell'associazione. La squadra dovrebbe essere composta da 10-15 persone ma oltre 50 hanno risposto all'appello della proloco. Impegno non da poco per l'associazione anche se sarà la Rai ad avere l'ultima parola sul gruppo che rappresenterà Badia. La popolare trasmissione infatti vede sfidarsi paesi e città in giochi di gruppo e a colpi di musica. Ideato dal regista Michele Guardì lo show è condotto da Messimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia mentre Elena Ballerini e Claudia Andreatti vanno in esterna nelle piazze dei Comuni in gara. Le puntate badiesi andranno in onda tra il 24 e il 26 novembre negli studi di Rai di Roma. Mercoledì intanto si terranno le riprese in Piazza Vittorio Emanuele II per la città una vetrina di tutto rispetto per valorizzare monumenti e storia, attività produttive e artigianali. Parliamo ancora di cronaca cronaca che porta ancora una volta all'omicidio Floris soldi, droga in questi due elementi si ritroverebbe il movente del delitto di Antonio Floris lo ricorderete il detenuto Sardo 61 anni è trovato senza vita ancora nel novembre del 2015 sotto una pila di legna in via Righi a Padova all'interno del centro opera assistenza scarcerati italiani dei padri mercedari dove da anni lavorava la terra con altri carcerati ha messo questo programma di reinserimento nella società. Per la morte di Floris lo scorso 3 marzo venne arrestato Santino Macaluso ex detenuto accusato di aver ammazzato l'uomo con una serie di colpi al cranio sferrati con un bastone. I poliziotti poi della squadra mobile coordinati dal sostituto procuratore Daniela Randolo mentre indagavano sull'omicidio si erano imbattuti in un traffico di cocaina gestito da un napoletano anche lui ospite di questo centro che vendeva la cocaina a Macaluso accusato appunto della morte di Floris e a un avvocato civilista Macaluso era un assuntore frequente a quanto pare di cocaina aveva sempre bisogno di soldi e per questo li chiedeva appunto a Floris quel 6 novembre del 2015 però il detenuto Sardo si rifiutò innescando così un diverbio culminato con la morte dello stesso uomo. Durante il processo sarebbe emerso anche un altro dettaglio ovvero sarebbe stata chiamata a testimoniare una civilista di Udine che avrebbe avuto una relazione sentimentale con l'imputato del delitto la donna avrebbe ammesso di aver sentito Macaluso dopo l'omicidio. Torniamo in provincia di Rovigo parliamo di cronaca ci sono stati ancora vandali ad Adria se voleva essere uno scherzo è stato comunque uno scherzo stupido di cattivo gusto quello che la seconda volta ha messo in atto a bottrighe con auto sporcate di farina e uova in modo da creare un pastore molto appiccicoso ed estremamente difficile da ripulire. La scoperta dei residenti la cui rabbia comprensibilmente cresce c'è un particolare comunque che potrebbe aiutare a capire da dove arrivano questi vandali forse un gruppo di ragazzini tra le varie strade le quali hanno colpito ce n'è una delle quali si sono sempre tenuti alla larga. Ora torniamo in provincia di Padova è stato un incontro molto positivo dove tutti insieme si siamo dati l'obiettivo di costruire e poi firmare entro l'anno un protocollo per la sicurezza urbana che colga da subito le nuove possibilità che giungono dall'importante lavoro del governo centrale ad opera del ministro dell'interno Minniti. E' questo il commento del sindaco di Padova Giordani dopo la riunione di coordinamento che si è tenuta in prefettura. Questo testo ha spiegato Giordani che conterà pratiche e forme di collaborazione ancora più vaste e incisive sarà condiviso e poi inviato presso il ministero dell'interno al quale chiederò anche formalmente di aumentare gli sforzi per dotare la nostra città di nuovi strumenti necessari a contrastare il crimine e i fenomeni di degrado urbano. Nel corso dell'incontro è stata effettuata un'analisi congiunta della situazione e della sicurezza pubblica in città. Particolare attenzione hanno spiegato dalla prefettura è stata rivolta all'esame della riduzione della situazione di determinate aree della città che presentano relativi profili di criticità. Si è proceduto anche a una disanima degli obiettivi sensibili in relazione ai quali verrà valutata la possibilità di richiedere un potenziamento del contingente delle forze armate assegnate nell'ambito dell'operazione strade sicure. È stata ravvisata l'opportunità anche di una implementazione del piano di controllo coordinato del territorio attraverso un sempre maggiore ricorso ad appositi tavoli tecnici già istituiti per l'esame delle singole fenomenologie criminose cittadine. E adesso gli esperti del Meteo.it ci raccontano come andranno le prossime ore dal punto di vista meteorologico. Amiche e amici di ilmeteo.it un caro saluto da parte di tutta la redazione previsioni per giovedì 19 ottobre inizia a cambiare il tempo a causa di correnti umidi atalantiche e venti meridionali che porteranno qualche pioggia sull'Italia quest'oggi comunque la giornata si manterrà in prevalenza asciutta ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it al nord al mattino nebbie sulle pianure centro-orientali e nubi basse sulle coste adriatiche migliora dal pomeriggio con cielo poco o parzialmente nuvoloso tuttavia giungono più nubi sulle Alpi Piemontesi entro la notte spostiamoci ora al centro sarà qui una bella giornata di sole cielo sarà sereno al massimo velato sulle regioni peninsulari parzialmente nuvoloso sulla Sardegna dove in serata nottata saranno possibili i primi rovesci raggiungiamo infine il sud tanto sole cielo sereno o al più con poche nubi sparse in nottata qualche pioggia sulla Sicilia i venti saranno deboli localmente moderati in prevalenza di scirocco le temperature risulteranno essere in lieve calo le minime infatti saranno comprese tra i 6 e i 18 gradi su tutte le nostre regioni per quanto riguarda invece le massime prevediamo fino a 24 gradi al nord 25 gradi al centro e 26 gradi al sud amiche e amici per ulteriori aggiornamenti cliccate mi piace sulla pagina facebook del meteo punto it arrivederci grazie ad alice grazie agli esperti meteo punto it per averci ragguagliato e grazie a voi per aver scelto il telegiornale di prima free di Padova e Rovigo vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di prima free a risentirci alla prossima edizione grazie a tutti grazie a tutti